Può essere interessante riflettere anche su aspetti quotidiani di questa ricerca e di pochi media del 1911-1912, la responsabilità e l'attacco quindi all'impero a destabilizzare l'area balcanica con tutto ciò che ha comportato per arrivare fino al fatto di Sarajevo del 28 giugno del 1914. C'è un quadro quindi che è interpretativo di questi eventi che non tende alla semplificazione ma a cogliere tutti gli aspetti complessi e anche gli aspetti di novità che emergono dai documenti, dalla diplomazia, dalle testimonianze dei protagonisti.